oggi mi trovo nel luinese nonostante ci abbiamo detto che non c'è niente sono comunque a fare un giretto e vabbè uno anche se piccolo piccolo ma l'ho trovato ed è sano questo è quello che conta è bello duro ma lascia ben sperare però è mezz'ora che sono nel bosco soltanto questo la vedo molto dura ci vediamo dopo se ne trovo qualcuno altrimenti altrimenti niente vediamo e vabbè secondo della giornata che le bestie ed è fresco spettacolare un figlio e un mollino il gambo però è bello a dopo e questo è il risultato finale d'altronde era una cosa senza pretese stamattina sono partito così giusto per fare un giro sapevo già che non c'era niente pensavo addirittura di prendere il cappotto però alla fine dai ho fatto i faggi a 1 ad 1 e alla fine qualcosa insomma qualcosa tirato fuori speravo quel punto lì dopo due speravo di trovare qualcuno in più però però niente ma neanche i matti o è presto o manca l'acqua uno dei due e vabbè domani danno acqua venerdì danno acqua e vediamo speriamo settimana prossima adesso arriva anche la luna speriamo dai un saluto a tutti grazie